contemporanea. Allora, dicevo, questo evento si inserisce in un ciclo di incontri, di approfondimento e di ricerca appunto all'insegna dell'Islam. Questo ciclo ha avuto inizio con una conferenza del professor Alberto Ventura e poi insomma prosegue anche oggi con un tema che insomma è quantomeno sensibile e attuale. Quindi l'approccio che stiamo cercando all'interno della Facoltà di Scienze della Politica e sotto legida del Centro di Studi di Geopolitica e Diritto Comparato diretto al professor Sbelò è volto prevalentemente appunto a coniugare la serietà metodologica che questo argomento impone con delle riflessioni affidate di volta in volta a studiosi, specialisti che abbiano contenuti da proporre. Quindi è un incontro ovviamente aperto a tutti, in primis ai nostri studenti, ma ovviamente siamo ben lieti che possa arrivare anche fuori dai confini dell'Ateneo, grazie ai potenti mezzi che ci vengono messi a disposizione. Quindi una volta terminata l'esposizione, poi col professor Leccese che è un collega dell'Università degli Studi della Calabria ma che insegna anche alla UNINT, molti di voi lo conoscono per i suoi numerosi contributi soprattutto in tema di sufismo, di slam contemporaneo. Ebbene dicevo poi lasciamo magari spazio se siete d'accordo Francesco anche a qualche domanda, a qualche riflessione, perché insomma il tema è di quelli veramente che si prestano ad essere accostati da un punto di vista sociologico, giuridico, religioso e quant'altro. Quindi insomma è stata una sfida, devo dire, propostami da professor Sbelò, noi abbiamo aderito, adesso aspettiamo una collega Albano che si occupa come vi spiegherà poi anche lei, insomma di letteratura araba per l'infanzia, ma al suo attivo degli studi appunto in ambito islamologico e quindi cercherà di ricostruire un po' quella che abbiamo definito con un latinismo l'avexata questio, perché il tema del velo e di tutte le sue varianti più o meno rigoriste è sempre sulla cresta dell'onda. Il nostro contributo come Ateneo e anche insomma come singoli studiosi è sempre quello di operare dichiarimenti e fornire dei contributi per una riflessione serena e soprattutto insomma fondata appunto sulle fonti e su una retta informazione, perché questa credo sia la condizio sine qua non per impostare anche un corretto appunto dialogo tra Oriente e Occidente. Non so se vuoi Francesco aggiungere tu qualcosa in attesa che arrivino i nostri ospiti. I miei studenti della UNINT, soprattutto gli studenti del corso di Cultura Araba 2, sanno che questo tema viene affrontato anche alla luce di quelle che sono state le evoluzioni dell'immaginario occidentale sul mondo islamico, su come il velo sia stato un po' un'ossessione, forse ci siamo? Vedo qualcuno, no se Angelo che è scomparso. Dicevo, il velo sia stato un po' un'ossessione già sin dall'epoca coloniale e che intorno al velo, come direi, grossa parte del dibattito intellettuale, anche contemporaneo, su quelli che sono i rapporti tra mondo o cultura occidentale e mondo islamico, sono effettivamente di strettissima attualità con tutte le declinazioni contemporanee che negli ultimi 30-40 anni hanno sicuramente dato vita a una serie di dibattiti anche riguardanti una forma, come dire se vogliamo, di femminismo interstiziale in cui il vero non è più visto come una forma di oppressione, ma è visto semplicemente come una forma di scelta individuale e vedremo poi, la relatrice sicuramente entrerà più nello specifico, indubbiamente è un tema che in Europa già dal 1989, dal famoso caso delle tre studentesse della periferia di Parigi espulse dal proprio liceo per aver indossato il velo in classe, è al centro di dibattiti anche molto infuocati nel dibattito intellettuale, soprattutto in Francia, ma con delle ripercussioni su molti paesi, in particolare le pensate all'Olanda e i paesi scandinavi e con un dibattito che se vogliamo è un dibattito senza fine tra posizioni più o meno transiste, di una forma di laicismo che vorrebbe, come dire nel velo, un simbolo di oppressione to court e invece posizioni un po' più liberali che invece tendono a mettere in luce quelli che sono gli aspetti diciamo della libertà individuale. Ah ecco qui finalmente posso tacere e lasciare forse la parola a Maria Luisa Albano, forse la vedo un po' sgranata, dietro un velo per l'appunto, un velo digitale? No, Emanuele Irace, no. Angelo tu ci sei? Ci sei ancora? Sì, sì sono qui, io mi sono scollegato per evitare Echi e quant'altro. Ok, ok, chiederei anche a Emanuele Irace se mi ascolta di o disattivare la videocamera o riattivare una modalità meno psichedelica perché in questo momento vediamo un velo sgranato. Ecco, grazie, scusi. Quindi diciamo queste tematiche sono la base di tutti gli studi sul mondo islamico anche perché le questioni di genere o i gender studies applicati al mondo islamico stanno godendo di un certo successo nei nostri studi settore per chi studia questioni riguardanti il mondo islamico sia da un punto di vista islamologico che giuridico che letterario sa che negli ultimi anni come dire c'è stato un moltiplicarsi di studi accademici o anche meno accademici riguardanti queste tematiche. Quindi è veramente un ambito di ricerca vastissimo. Io non sono uno specialista di questioni di genere come accennava poco fa il professor Iacovella sono piuttosto uno specialista di islam contemporaneo e di sufismo ma è un tema che negli anni rimane sulla cresta dell'onda rimane di particolare interesse per i nostri studenti, per le nostre studentesse che studiano l'arabo e la cultura araba e quindi va affrontato nel modo più possibile chiaro e scevro da pregiudizi anche perché negli ultimi anni abbiamo la fortuna di avere delle classi sempre più multiculturali e possiamo anche sentire le voci degli attori di questi tipi di fenomeni riguardanti le questioni dell'abbigliarsi o dell'identificarsi in un certo tipo di abbigliamento sia da un punto di vista religioso che da un punto di vista identitario e quindi sono delle tematiche estremamente delicate che vanno affrontate con la massima apertura mentale ma anche con il massimo, come dire, con la massima, col massimo equilibrio eccoci, eccoci, perfetto io lascio la parola al professor Sbelò che vedo, 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 vedo che si è manifestato mi taccio, Ciro, e ti lascio la parola al preside aspetta, 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 eccoci qua buon pomeriggio mi sentite? avrei bisogno di un segnale di conferma ci sei, Ciro, ci sei con l'alta fronte di Angelo Jacovella vedo Maria Albano collegato, vedo Francesco Leccese voi mi state sentendo? sì benissimo, allora siamo alla facoltà di scienze della politica e delle dinamiche psicosociali il corso di laurea in investigazione, criminalità e sicurezza internazionale io sono il preside del professor Ciro Sbailò faccio diritto pubblico comparato nell'ambito del nostro corso abbiamo chiesto a Maria Albano arabista esperta di letteratura araba ma anche di tutte le problematiche di natura sociale e culturali e direi vorrei aggiungere interculturali connesse allo studio delle esperienze letterarie nel mondo arabo quindi considerate dinamicamente come parte del contesto sociale quindi esperta anche delle dinamiche che ruotano intorno a questo e quindi della civiltà araba contemporanea e diciamo dei risvolti che sono di interesse anche per il nostro corso di laurea come nasce questo appuntamento questo appuntamento nasce da un dibattito che c'è stato in aula con gli studenti ma voi mi vedete scusate io non mi vedo ma spero che mi vediate sì sì la vediamo forte e chiaro no quello è ascoltare ma anche le dire anyway è nata una c'è stato un dibattito sul tema del velo nel mondo islamico sul suo significato io come giurista mi sono più volte confrontato con questo problema perché ci sono una serie di sentenze a livello italiano dai vari gradi della giurisdizione ma anche a livello europeo e c'è anche una giurisprudenza a livello di Consiglio d'Europa sul tema ma non è di questo che parleremo oggi se non forse qualche cenno se ci sarà ma essenzialmente io ho chiesto a Maria Albano alla professoressa Albano di spiegarci di farci comprendere di aiutarci a inquadrare la questione che spesso viene inquadrata in maniera strumentale in maniera come dire piatta senza tener conto della complessità della ricchezza che ci può rendere soltanto una persona che oltre a studiare l'aspetto sociale ne conosce tutti gli svolti anche culturali e ho chiesto ovviamente al nostro arabista di riferimento il caro amico Angelo Iacovella di intervenire e al caro amico nostro islamologo Francesco Leccese scusate se ho sbagliato le qualifiche ma non credo Francesco Leccese di essere presente quindi io mi limito semplicemente a questo non aggiungo altro volevo semplicemente dare un segnale sulle ragioni di questo incontro mi taccio mi oscuro ricordo agli studenti che dopo la lezione ci possiamo prendere anche qualche minuto in più se sforiamo ci rivediamo sulla piattaforma Everywhere per importanti comunicazioni di servizio grazie Maria buon lavoro mi sentite? mi sentite? sì scusate perché ho una serie di problemi connessi con il mio collegamento allora innanzitutto volevo ringraziare ringraziare il preside il professor Svailò per questo invito a parlare del velo ed è un argomento che spero sia interessante insomma perlomeno spero di riuscire a dare qualche qualche spunto di riflessione e saluto mi sentite vero? ci siete? qualcuno vi dà un tip? sì sì io sento io sento io sento io sento vedo una immagine molto molto forse direi magari a di scollegare il video in modo tale che possiamo vedere la relatrice e soltanto lei vedo che c'è allora ragazzi tutti quanti scolleghiamo il video e il microfono e lasciamo parlare la relatrice in modo che il segnale arriva più chiaro grazie ok allora sì sì il mio ringraziamento al professore Svelò che tra l'altro è stato mio tutor nel dottorato di ricerca quindi mi ha dato modo di approfondire molto la mia conoscenza dell'islam anche da un punto di vista giuridico che è stato molto utile per la mia formazione e saluto anche Angelo Iacovella condividiamo un passato di alunni del PISAI del Pontificio Istituto di Studiare di Islamistica quindi anche a lui mi lega molta insomma un ricordo insomma legato anche alla mia formazione vorrei pregarvi io avevo mandato gli slide al dottorista Giardino io adesso provo a condividere le slide vediamo se ci riesco da qui naturalmente non ci riesco e volevo pregare la non so se c'è la dottorista Giardini Giardino Ornella si eccomi le galle buongiorno buongiorno grazie se può caricarle perché con le slide forse diventa tutto molto più semplice anche per gli studenti più più fruibile ecco io scusate chiederei sempre alla signora Gabriella che vedo che ecco di disattivare la webcam così ok grazie benissimo grazie Ornella perfetto niente questa è la slide che abbiamo abbiamo che è il titolo di questo nostro incontro dunque la prima cosa secondo me da chiarire quando si parla di velo in termini islamici è vedere in quanti modi si può definire il velo velo è il burku baraki che è il famoso burka velo è c'ador sul plurale c'adora che è un termine prestiano da noi utilizzato appunto come c'ador velo è l'ijab termine molto noto il cui plurale è hujub velo è khimar il cui plurale khumur o anche niqab il cui plurale è nukub quindi diciamo che oggi cercheremo di parlare del velo secondo tutte queste accezioni che sono anche entrate molto nel nostro linguaggio comune però cerchiamo di capirne meglio non solo le caratteristiche ma anche diciamo i loro riferimenti al testo sacro in questo caso al corano ok allora la prima parola che esaminiamo è la parola che indica il velo come khimar il khimar è un velo che di solito viene usato sia dalle donne che dagli uomini per coprire il capo dal sole e anche in questo caso abbiamo innanzitutto un riferimento coranico è la sura 24 il versetto 31 che recita di alle credenti di abbassare lo sguardo e di essere costumate e di non mostrare i loro ornamenti eccetto quelli esterni e di stendere i veli in questo caso il testo coranico usa il termine khumur che è il plurale di khimar del capo sui loro segni questo versetto viene ripreso almeno da un punto di vista del significato dal versetto 59 della sura 33 che recita o profeta di alle tue spose alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli e usa il termine jalalib questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese quindi in pratica nella società proto-musulmana il termine khimar viene usato il termine velo insomma viene usato sia come khimar sia come jalalib come un indumento un qualcosa che deve proteggere dallo sguardo le donne deve proteggerle quindi una sorta di protezione e infatti nella società proto-musulmana solo le donne del profeta potevano coprirsi con il velo storicamente quindi il velo non è un dogma coranico quando diventa dogma abbiamo il caso innanzitutto del giurista Kairawin un giurista morto nel 1996 fondatore dell'università teologica di Fetz in Marocco che parla del velo da indossare solo per andare in Moschea e quando Kairawin parla di questo obbligo in qualche modo di indossare il velo ma solo per andare in Moschea usa il termine khimar e quindi si riferisce direttamente alla fonte coranica cioè al versetto 31 della sura 24 che abbiamo letto prima ma dopo Kairawin è il teologo Ibn Taymiyya che è il teologo della scuola handalita del XIV secolo che in maniera molto forte afferma invece proprio l'obbligo per tutte le donne libere e non solo per le schiave di velarsi il capo in questo caso non è soltanto un obbligo riferito all'andare in Moschea ma è un obbligo nella loro vita quotidiana e per questo anche Ibn Taymiyya si riferisce al citato versetto 31 della sura 24 chiaramente mentre nella accezione coranica il velo è una sorta di protezione nell'interpretazione di Ibn Taymiyya che è un teologo di una scuola handalita quindi di una scuola molto ortodossa diventa invece un obbligo senza riferimento al fatto di essere in qualche modo protette dallo sguardo altrui l'altra parola che disegna il velo nel linguaggio coranico è hijab hijab è un velo che copre solo i capelli e non il volto il versetto più famoso che si riferisce all'hijab è il versetto 53 della sura 33 che recita o voi che credete non entrate negli appartamenti del profeta a meno che non siete stati autorizzati in occasione di un invito a pranzo e in questo caso entrate solo quando il pranzo sta per essere servito se dunque siete stati invitati entrate ma ritiratevi non appena avete finito di mangiare senza abbandonarvi a conversazioni familiari una simile negligenza dispiace io dice il testo coranico al profeta che ha ritegno a dirvelo Dio però non ha ritegno a dire la verità quando andate a domandare qualcosa alle espose del profeta fatele dietro una tenda hijab ciò è puro per i vostri cuori e per i loro questo versetto storicamente viene rivelato al profeta Mohammed dopo il suo matrimonio con Zainab ed è proprio riferito al discepolo Anasib Nemali che si attarda negli appartamenti del profeta e in qualche modo turva l'intimità di questa neocoppia quindi in questa accezione coranica l'hijab viene utilizzato come tenda e si riferisce alla radice hajab del verbo che significa appunto velarsi e nascondersi ma anche tirare una tenda quindi creare una separazione una cortina io non so se riesco ad andare avanti con le slide no ecco qua la parola hijab compare sette volte nel linguaggio coranico e qui sono un po' elencate le varie sure quindi qualcuno che vuole approfondire ci sono i riferimenti poi ho lasciato le slide se volete potete cercare questi riferimenti nel corano ma solo in un caso tra tutti questi elencati la parola hijab assume il significato di velo e si riferisce alla sora di Maria e nel libro ricorda Maria quando si appartò dalla sua gente lungi in un luogo d'oriente ed essa prese a proteggersi dal loro un velo hijab quindi Maria si protegge davvero questi versetti sono rivelati subito prima della rivelazione dell'angelo Gabriele a Maria perché anche nel corano abbiamo il versetto dell'annunciazione l'angelo Gabriele spesso viene definito anche rohal kuz cioè lo spirito santo quindi è un angelo spirito che rivela a Maria di essere la futura madre di Gesù noi sappiamo che Gesù nel linguaggio secondo il corano non è assolutamente il figlio di Dio perché Dio non può scindersi data la sua assoluta unità Taukid quindi Gesù è un profeta ma come Adamo è l'unico uomo nato direttamente da donna questo ha comune appunto Gesù ad Adamo anche Adamo nel corano negli islam viene definito profeta e Maria viene chiamata sai dato una nostra signora un appellativo che viene riferito solo ai profeti questo anche per dire come nel corano nella società anche proto musulmana la figura di Maria è figura oggetto anche di rispetto di generazione per gli stessi musulmani dunque il hijab come termine ha una polissemia può quindi assumere molti significati la prima il primo significato è quello che abbiamo detto della dimensione visiva cioè dalla radice hijab che significa sottrarre alla vista ma questa stessa radice significa anche tirare una tenda separare quindi segnare un confine una dimensione visiva e una dimensione spaziale che metaforicamente può anche includere una dimensione morale perché io separo distingo ciò che è puro da ciò che è impuro ciò che è visivo e spaziale da ciò che non lo è ciò che è haram e ciò che è halam cioè ciò che è consentito e ciò che è proibito e questa interpretazione dell'hijab come tirare una tenda una cortina separare il puro dall'impuro viene ripreso da due grandi scrittori una è una sociologa marocchina Fatma Mernissi nota anche per aver visitato tutte le fonti parlando di femminismo islamico accenneremo al femminismo islamico nell'ultima parte di questo nostro seminario perché femminismo islamico perché Fatma Mernissi come tante altre donne musulmane attraverso la lettura del Corano vogliono sfatare il pregiudizio che l'islam sia misogino l'islam non nasce misogino e quindi la Mernissi quando parla di questo nonne del profeta che lei definisce il libro Naviglio parla proprio dell'ijabe dice il profeta ha voluto intendere non un velo di sottomissione ma un velo una tenda una separazione di uno spazio haram da uno spazio halal e questo concetto viene ripreso anche da Khaled Fuadallam che è stato un noto sociologo purtroppo scomparso prematuramente insegnava sociologia all'università di Trieste che in un articolo pubblicato su Repubblica nel 2004 riprende proprio questo significato dell'ijabe dalla sura che abbiamo citato e dice appunto l'ijabe diventa un velo diventa un simbolo che delimita appunto una cortina cioè che crea una separazione dunque la polisemia del velo si riferisce anche a un significato estremamente diverso da quello che è in uso cioè il velo come simbolo di liberazione della donna e qui abbiamo l'avvocato Kasim Amin che è un avvocato egiziano che nel 1920 scrive un articolo che si chiama Al-Atalip Al-Musera in cui appunto parla di questo proto-femminismo egiziano che è molto secolare perché nasce siamo nei primi anni del 20 siamo nell'epoca di grandi movimenti anche femministi europei siamo negli anni in cui Virginia Woolf scrive appunto Miss Stalloway quindi abbiamo questa corrente femminista secolare molto forte europea che però viene sposata in gran parte anche dalle donne arabe in specie egiziane perché questo periodo coincide con quello che in arabo viene chiamato Nahd rinascita segna la fine del protettorato inglese in Egitto nel 1922 e ed è immediatamente precedente a tutti quelli che poi saranno i movimenti di liberazione dal colonialismo europeo in tutti i paesi del Nord Africa dalla Libia che si libererà appunto dal colonialismo italiano negli anni 50 fino agli anni 60 che vedono poi la liberazione di tutte le altre nazioni del Maghreb e perché c'è questa assonanza tra il femminismo secolare egiziano e quello europeo perché in realtà il nemico da sconfiggere è quello della società patriarcale anche il femminismo inglese si riferiva agli stessi principi liberiamoci dalla figura patriarcale quindi da ciò che opprime la donna sembra veramente antisignano tutto questo in questi anni in questi anni il mondo arabo conosce molto bene l'Occidente e risente molto dell'influsso dell'Occidente dalle costituzioni che poi saranno riscritte sulla scia delle costituzioni occidentali e la 50 di di latte prego però vedi sulla scatola non c'è la scatola prego c'è qualche scusate c'è qualche problema nella mi sentite? si si chiedo a tutti di disattivare l'audio perché forse qualcuno inavvertitamente ah no pensavo che ci fosse qualcuno che voleva inserire per chiedere qualcosa e quindi se noi diamo questa lettura del proto-feminismo egiziano molto legato alla dimensione secolare molto legato agli scritti dell'avvocato Kasim Amin e molto legato a femministe egiziane come Huda Sharawi che di ritorno negli anni 20 da un grande convegno a Roma proprio sul femminismo alla frazione del Cairo o di Alessandro e questo non lo ricordo bene toglie il suo velo e lo getta a terra quindi è un gesto che divinta e designa la liberazione quindi il velo anche come simbolo di liberazione della donna ovviamente questa parte secolare che ha interessato il mondo arabo ripeto un po' in tutti i campi non solo nel campo dei diritti delle donne eccetera delle costituzioni della letteratura perché molta letteratura araba nasce alla fine appunto dell'impero ottomano e poi piano piano con i grandi movimenti della Nahda di questo periodo che arriva fino ai primi anni del novecento nasce sulla scia dei grandi capolavori letterari dell'occidente che sono stati tradotti dagli autori arabi e poi piano piano gli autori arabi hanno trovato un loro stile ancora per parlare del velo dell'ijabe e dare una connotazione riferita appunto alla sua polisemia c'è un verso molto bello c'è uno scritto molto bello di Adonique un poeta che in De Tour de Critour nel 1993 scrive l'imposizione del velo è il risultato naturale e logico dell'unità di pensiero riguardo a Dio che rifiuta ciò che è percepibile attraverso i sensi e le sue tentazioni il velo gettato su una donna non sarebbe altro che l'eliminazione della sua immagine da cui procede la sua capacità di seduzione l'occultamento dell'immagine della donna è una conferma simbolica della priorità della sozione spiritualizzata e pertanto un superamento del mondo dei sensi e degli stinti in questo caso il fatto che la donna sia velata quindi il fatto che non ci sia possibilità di avere tratti umani addirittura secondo Adonique sarebbe uno spiritualizzare la donna noi sappiamo che per l'Islam Dio non può essere antropomorfizzato non ci sono immagini di Dio la spiritualità cioè il suo essere un essere intrascendente la sua unitarità non permette assolutamente di dare connotazioni umane alla divinità quindi anche le immagini del profeta le poche miniature che noi abbiamo le immagini che sono state trasmesse sono sempre un volto velato un volto senza tratti umani anche per questo è simbolo di una spiritualità e lo stesso concetto di spiritualità è per la donna perché il velo in questo caso cancellandone i tratti umani come dice Adonique ha una conferma simbolica della priorità dell'azione spiritualizzata quindi addirittura si supera il mondo dei sensi e degli istinti quindi la donna non è più simbolo di Hawa come dice il Corano cioè simbolo di un momento di digressione di confusione ma diventa addirittura un'immagine spiritualizzata l'altra parola che disegna il velo è il burka il burka è invece un velo fissato al capo che copre l'intera testa permettendo di vedere attraverso una finestrella l'altezza degli occhi e lasciando gli occhi scoperti però il burka può avere anche una seconda visione una seconda versione che è un completo abito di colore blu che copre testa e corpo all'altezza degli occhi c'è una retina che non fa vedere gli occhi quindi c'è un burka che mostra gli occhi della donna e c'è un burka che invece impedisce totalmente la visione della donna anche quella degli occhi dove viene usato soprattutto viene usato soprattutto in Afghanistan introdotto all'inizio del novecento nel regno di Abibullah e fino agli anni cinquanta anche in questo caso è prerogativa delle donne dei ceti ambienti l'abbiamo visto anche prima con Dijab diciamo in primo momento il velo viene dato solo alle donne dei ceti ambienti non a tutte le donne nel 61 viene erogata una legge che impedisce alle dipendenti pubbliche indossare il burka e poi con il regime teocratico islamico dei talebani in Afghanistan il burka viene imposto a tutte le donne una curiosità che nella lingua italiana il termine burka corrisponde al termine bakuka bakuka secondo il dizionario Zingarelli disegna un volto solo parzialmente coperto dal velo che si chiama coperto dal velo scusate che si chiama bakuka solo parzialmente coperto dal velo bakukina sono tante le parole italiane che hanno origine araba tutte le parole che cominciano con al al appunto l'articolo quindi albicoca algoritmo algebra quindi questi queste parole che sono derivate dalla dominazione araba in Italia specialmente in Sicilia sono poi diventate anche parole di uso comune l'altro modo per dire velo è miqab miqab è una velatura del volto femminile che era già presente in epoca preislamica e lascia scoperti solo gli occhi sono molte le cose che dall'epoca preislamica detta dagli arabi della jahiliya dell'ignoranza passano poi all'islam non tutto viene tolto ripudiato uno di questi appunto è questo cucicapo il miqab il quale si compone di due parti è un fazzoletto di stoffa leggera e trasparente collocato al di sotto degli occhi che copre naso e bocca pezzo di stoffa più ampio che nasconde i capelli e buona parte del busto legato dietro la nuca e lasciato cadere morbido sulle orecchie quindi una prima parte però si parla di un fazzoletto di stoffa molto leggero e trasparente che copre naso e bocca e poi un'altra parte di stoffa più ampia che viene legata dietro la nuca e lasciata cadere morbida sulle orecchie nel vicino oriente spesso l'idea del miqab è stata associata alle correnti fondamentaliste dei wahhabisti una delle correnti più fondamentaliste dell'islam legata all'Arabia Saudita ma non solo non solo in queste aree fondamentaliste potremmo dire presente il miqab è presente anche in molte altre aree del mondo arabo in Egitto si è specialmente nei primi anni del 2000 c'è stata una forte tendenza per le donne di lasciare l'ijab per favorire il miqab quindi in qualche modo un velo che è più coprente rispetto all'ijab che abbiamo detto copre solo il capo e lascia scoperto il volto al punto che nel 2009 il primo gennaio del 2009 l'allora ministro dell'istruzione Hani Halal proibì alle studentesse di accedere all'università con il miqab proprio in qualche modo per fermare questo questo ritorno a un velo più integrale ora tutto questo che noi abbiamo detto è molto importante perché perché è chiaro che il velo si ricominciunge molto facilmente a quello che viene definito il femminismo islamico che cos'è il velo è un'imposizione coranica che significa che la donna è sottomessa all'uomo è un simbolo di identità è una scelta della donna le donne velate si chiamano muhajabat molto spesso le donne scelgono di indossare il velo il femminismo islamico è quella parte di femminismo che nasce da un femminismo secolare l'abbiamo visto nei primi anni venti con Fuda Sharawi Saizan Abarawi cioè con le donne protagoniste di quel tempo ma poi col passare del tempo il professor sbalò direbbe con l'acceleratore dell'elemento islamico col passare del tempo quindi con una crescente islamizzazione anche del mondo arabo che non viene assolutamente secolarizzato ma anzi va sempre più contro una sorta di islamizzazione da come ci dice la storia recente tenta di spiegare perché l'islam non sia misogeno cioè esiste un islam unico è un islam che protegge la donna ricordiamoci che la donna quando viene rivelato vengono rivelati i primi versetti del Corano al profeta durante quindi le prime rivelazioni la donna nell'epoca pre-islamica non aveva uno status giuridico veniva ereditata come un capo di bestiame come un pezzo di mobiglio ecco l'islam che la donna assume uno status uno status giuridico uno status sociale uno status morale sono famosi versetti in cui si condanna l'infanticidio femminile e si leggono le biografie del profeta scritte appunto da molte donne che hanno poi protestato il femminismo islamico da Fatma Nernissi ad Asha Jebar che è una cineasta e scrittrice algerina che scrive donne del profeta lontano da Medina viene molto in queste biografie romanzate però fondate sui riferimenti coranici molto molto severi quindi molto indagati da un punto di vista storico e teologico si nota che la società proto-musulmana era piena di donne protagoniste e che lo stesso profeta aveva con le sue donne con le donne della sua comunità un rapporto molto bello di grande rispetto di grande tenerezza a cominciare da quello con le sue mogli a quello proprio delle donne di questa prima società appunto di questi primi l'albori dell'Islam la storica del femminismo egiziano è Leila Ahmed che parla di un femminismo coloniale e qui c'è anche un riferimento a un libro molto famoso Women and Gender in Islam Historical Roots in Modern Divide e con gli anni 70 e 80 e sempre più con l'espandersi dell'Islam politico come dicevo si parla sempre più del femminismo islamico perché il femminismo secolare quello che era visto nello spettacolare gesto di Uda Sharawi viene sempre più visto come un'importazione dall'Occidente e poi sempre più legato ai movimenti nazionalisti in realtà sono i movimenti nazionalisti quindi questo grande moto di ribellioni all'Occidente che porterà poi alla fine del colonialismo in tutta Nord Africa viene associato poi a questo femminismo secolare che poi diventa sempre più islamico un'altra grande protagonista del femminismo islamico è Marco Badran la quale sempre egiziana la quale unisce le femministe musulmane a quelle copte quindi il femminismo non è soltanto più islamico è un femminismo arabo che prende anche la parte copta e quindi ha una dimensione molto più universale pur però basandosi sempre sulla propria caratteristica e quindi sull'elemento islamico che è sempre molto forte e poi abbiamo Asma Lamrvet che scrive sul personaggio Aisha chi è Aisha? Aisha è una delle ultime mogli del profeta e Aisha viene ricordata molto anche perché alla morte del profeta quando c'è molta discussione nella umma islamica dell'epoca circa i criteri della successione al profeta stesso chi succederà al profeta qualcuno che appartiene alla sua casa Annalveit come Ali il marito di Fatima oppure qualcuno che ha il carisma della giustizia dell'integrità come Abu Bakr che è appunto il padre di Aisha ecco quando c'è questa disputa appunto bisogna disegnare il successore del profeta Aisha non esita a capeggiare un esercito contro Ali e il partito Alide proprio per affermare che il principio di continuità non poteva essere dinastico ma doveva essere basato su altri criteri e questa famosa battaglia quindi una battaglia guidata da una donna dagli storici viene ricordata come la battaglia del cammello quindi il nome di Aisha non verrà mai più fatto e questo questi sono i testi su cui si basa il femminismo islamico cioè per dire non è vero non è così le donne sono state coraggiose se Aisha moglie del profeta è riuscita a capeggiare un esercito è perché il profeta non considerava le donne incapaci di poter essere condottiere o di andare in battaglia ma dava loro uno status ora questo non vuol dire che per il profeta o per l'islam del 600 la donna era non vorrei essere fraintesa insomma non era simbolo di libertà assoluta eccetera però aveva uno status non era la donna sottomessa sottoposta schiavizzata ma aveva uno status ben definito che rispetto all'epoca pre-islamica era di gran lunga di gran lunga molto più dignitoso per la donna stessa la Lamra Bet come tutte le altre autrici del femminismo islamico dalla Badran che abbiamo già citato tutte fanno una rilettura dei testi e c'è un concetto molto importante che viene discusso e che è quello di Kiwama Kiwama è un termine che indica l'autorità del marito sulla moglie nell'ambito della coppia perché nel Corano viene detto che gli uomini sono posti un gradino più in alto delle donne però perché viene detto nella sura 4 versetto 34 sempre nella sura 4 versetto 135 nella sura 5 versetto 8 però le femministe islamiche dicono non si dice nel testo coranico hakimiyah hakimiyah è un termine che vuol dire governo hakimiyah l'illah è un'espressione islamica appunto per dire tutto il mondo appartiene a Dio tutto il governo del mondo è nelle mani di Dio tutto il potere sul mondo è nelle mani di Dio tutto il mondo appartiene a Dio la donna non appartiene all'uomo perché ne è un oggetto posseduto ma il testo coranico appunto parla di kiwama la donna deve essere messa sotto la protezione la responsabilità dell'uomo quindi l'uomo è un gradino più in alto della donna ma perché deve prendersene cura ora se noi contestualizziamo il testo coranico e siamo nel 600 d.C. ci rendiamo conto davvero di quanto sia straordinario rivoluzionario questo concetto la donna nello status islamico ha diritto a una dote mahr la quale dote è un suo appannaggio esclusivo cioè è una proprietà della donna che appartiene solo alla donna di cui la donna può disporre nel caso di ripudio e se è vero che l'uomo eredita più della donna è perché l'uomo deve poi farsi carico delle sorelle delle figlie delle persone cioè delle donne della sua famiglia che possono essere ripudiate e possono avere bisogno di aiuto quindi ci sono degli autori come Mahmoud Shaltout Muhammad Abdu che partengono appunto a questa corrente più riformista dell'Islam che insistono molto come le femministe islamiche in una rilettura del testo coranico l'ermeneutica al testo coranico non è mai stata pratica insomma non c'è una vera ermeneutica del testo coranico diciamo che è stato in qualche modo anche bloccato questo processo di ermeneutica ci sono degli intellettuali come Nasr Hamid Abu Zaid un intellettuale egiziano passato passato alla storia perché ha provato ad applicare l'ermeneutica al testo coranico ed è stato costretto ad andare via dall'Egitto accusato di apostasia perché appunto ha interpretato i versetti una delle cose che diceva Nasr Hamid Abu Zaid è che il versetto sulla poligamia oggi non avrebbe nessun tipo di non potrebbe essere applicato nella moderna società perché perché il versetto sulla poligamia quindi sulla possibilità che un musulmano ha di sposare più mogli venne rivelato dopo le prime battaglie in epoca proto-musulmana in cui molti erano le donne rimaste vedove e i bambini rimasti orfani quindi quei pochi musulmani che sopravvivevano a quella che fu una vera e propria battaglia che il profeta stesso dovesse sostenere contro il potere di allora cioè le tribù cura iscite eccetera dovevano poi prendersi questi uomini sopravvissuti dovevano prendersi cura delle donne rimaste vedove dei bambini rimasti orfani oggi dice Nassar Amida Bruseid tutto questo non avrebbe senso quindi applichiamo l'ermeneutica testa coranica ma questo coranico non è sempre una cosa che è possibile quindi egli stesso è stato molto osteggiato al punto di dover lasciare l'Egitto ed essere accusato di apostasia e qui ho lasciato alzi a qualcuno venisse voglia di approfondire un po' questo discorso sul femminismo islamico ecco è interessante anche che sempre l'Amra Bebek parla del movimento femminista come la terza via capace di riconciliare i valori degli islam e quelli dei diritti umani è un po' quello che i costituzionalisti dicono della democrazia in senso islamico cioè non è vero che i diritti umani non è vero che le libertà della donna i valori dell'islam sono inconciliabili con quella appunto che è la dignità femminile non si deve per forza pensare a una donna completamente sottomessa nel 2009 nasce un movimento globale si chiama Musawat che chiede l'eguaglianza dei diritti all'interno della famiglia in Turchia sono molte le iniziative per la rilettura degli hadith cosiddetti misogini gli hadith sono gli scritti i detti riferiti al profeta Muhammad che avrebbe e ai suoi compagni della società proto-musulmana che sono stati tutti selezionati accuratamente per verificarne l'autenticità cioè per essere sicuri che sia stato il profeta stesso a pronunciarli che fanno parte con il Corano sono appunto i testi sa che sono la fonte del diritto di tutti del diritto appunto islamico quindi hanno una loro grande importanza e rileggiamo li dicono e rendiamoci conto che molti hadith misogini non lo sono questo lo fa molto bene Fatima Mernissi nel suo libro Naviglio Donne del profeta in cui riprende proprio un hadith in cui che risulta veritiero ma che secondo lei lo dimostra con le fonti non lo è in cui si dice che il profeta avrebbe detto guai a quella donna a quel popolo che viene guidato da una donna c'è questa tendenza appunto a rileggere gli hadith e a verificarne l'autenticità non in senso misogino va di pari passo con la tendenza di formazione delle donne musulmane come teologhe o predicatrici le dayat ancora ancora questo movimento femminista questo islamico questo appunto vedere nelle fonti quanto la figura delle donne non sia affatto una figura sottomessa oppure di secondo piano rispetto all'uomo viene visto anche con la nuova legge non più tanto nuova del Marocco la Mudawana e infine in Giordania c'è stata questa associazione la Faf che era vicina ai fratelli musulmani che si è impegnata a combattere le disfunzioni e le violenze in ambito familiare creando una collaborazione con l'associazione femminista di stampo secolare Unione delle donne in Giordania cioè in Giordania c'è stata proprio questa unione del femminismo secolare e del femminismo islamico io mi fermo qua perché vedo di aver sfiorato il tempo che mi era stato dato le ultime due slide approfondiscono da un punto di vista del significato appunto il termine Kiwama proprio per dimostrare tutto quello che abbiamo appunto detto e infine io faccio solo un brevissimo accenno al fatto che il velo quindi il velo come si intende il velo il velo non è sotto missione il velo può essere liberazione quindi la rilettura delle fonti quindi il femminismo islamico ma il velo in occidente diventa simbolo e quindi ancora un ulteriore significato di libertà di liberazione ma viene di identità è famoso noi sappiamo che tutto quello che sta accadendo purtroppo gran parte dei movimenti fondamentalisti in occidente gran parte di quello che accade è dovuto al disagio delle nuove generazioni le cosiddette seconde o terze generazioni che non si riconoscono più nel contesto occidentale in cui sono nati e cresciuti ma che vedono appunto nel velo un simbolo di identità togliere il velo vuol dire togliere a una persona di indossare un qualcosa che ne rivendica l'identità islamica non si può fare loro dicono appunto perché questo chiaramente soprattutto in Francia dove c'è il principio di laicità che impedisce alle ragazze musulmane di indossare il velo è famosa la prima protesta quella del 2003 delle sorelle di Diomari del liceo di Auberville che furono appunto cui fu impedito di entrare in classe perché indossando il velo non operivano alla legge francese una legge fondata tutto il principio di laicità che vieta liceo perché è considerato singolo religioso ecco io mi fermo qui grazie grazie per questa lexio magistralis grazie per la chiarezza e il rigore e l'accuratezza grazie allora io intanto a mo' come dire di commento metto voglio far vedere questi due testi che mi sono trovato adesso devo dire devo a Maria Albano avermi fatto conoscere Abu Zaid e poi invece qui abbiamo Nicolò Cusano che è un filosofo del XV secolo molto importante anche se è poco conosciuto che dedica un libro a lettura dialettica del Corano perché questi due testi perché Cusano cosa fa? Cusano rilegge il Corano con l'ermeneutica cristiana e arriva a giustificare le differenze dottrinari tra cristianesimo e Islam senza superarlo cioè rimangono due realtà però nella sua ermeneutica in qualche misura giustifica le divergenze dell'Islam senza però arrivare a un irenismo assoluto Abusaid che è maestro dell'ermeneutica Maria ma io credo che tu l'abbia conosciuto se non sbaglio no? o comunque perché lui non è morto da tanto è stato al Pisai più volte ospita il pontificio istituto di studiare a Busa mi ricordo perché mi ricordo che me ne parlassi la prima volta sì sì purtroppo morto da poco sì morto da poco lui è cosa fa lui applica l'ermeneutica l'ermeneutica al Corano che è una cosa diversa però dalla libera interpretazione io non sono questo poi magari Angelo e Francesco mi correggeranno e tu Maria mi correggerai ma io non credo che Abusaid stesse riaprendo la porta dell'Istiyad perché la sua l'ermeneutica è un'ermeneutica interna secondo me al Taklid c'è la tradizione però questa è una mia interpretazione personale poi non ho sufficiente conoscenza io come giurista ho una certa predilizione per il Taklid naturalmente c'è per Abderazze Calzanuri ma ovviamente però ecco però voglio dire la interpretazione l'ermeneutica è molto importante per smontare questa macchina infernale della interpretazione fondamentalistica soprattutto tra le giovani generazioni e tra quanti non hanno un rapporto diretto con la tradizione islamica ma volevo soltanto fare questo appunto e prima che mi dimentico lanciare lì un'idea c'è di un incontro con Maria e con Francesca Boccaldacre e quindi e con Angelo e Francesco magari di qui non so a settembre organizzare un workshop della UNINT su questo su questo tema un workshop con gli atti e pubblicazioni nella nostra rivista scientifica questo magari lo lancio lì perché tanto non mi potete dire di noi in diretta se no mi mettete in imbarazzo quindi ne approfitto vi metto con le spalle al muro e quindi penso che questa cosa potremmo gestirla come centro studi e fare un call for papers a uso anche dei nostri dottorandi per fare un lavoro scientifico su questa questione però ecco la lancio lì approfittando della mia posizione in questo momento e del fatto che voi non mi potete dire di no perché siamo in diretta bene allora adesso io vorrei dare la parola innanzitutto ai nostri due colleghi diciamo esperti ai nostri riferimenti della comunità unit su questi temi Angelo Francesco e poi magari sentiamo gli studenti sì intanto di nuovo buonasera a tutti io ringrazio di cuore la nostra leatrice l'occasione è stata propizia per appunto come dire intavolare una discussione su una base scientifica e impeccabile anche dal punto di vista metodologico quindi davvero grazie alla collega Albano io devo confessare di essere un po' a disagio perché mi sono con molta circospezione sentito coinvolto in questa iniziativa anche se il tema è di quelli che fanno tremare un po' le gambe e i polsi perché intreccia una serie di discipline che vanno appunto dalla giurisprudenza alla dimensione religiosa al folklore alla tradizione e poi soprattutto è carico di valenze simboliche e nell'attualità più stretta viene spesso evocato in maniera anche talvolta ma a destra è strumentalizzato in chiave xenofoba anche per giustificare un'immagine dell'islam che non sempre corrisponde a quello che poi risulta dai testi come la nostra collega ha fatto emergere in maniera molto efficace dalla sua relazione insomma la ringrazio nuovamente anche di questo perché ha diratato delle nebbie muovendo anche da alcuni chiarimenti di carattere di carattere terminologico lessicale insomma come docente di lingua e letteratura araba sposo pienamente questo metodo quindi la ricostruzione anche dei significati dei singoli termini è fondamentale per poi contestualizzarli naturalmente colgo anche l'occasione per aderire all'invito del professor Sbailò che si inserisce in questo lavoro insomma multidisciplinare che stiamo cercando di promuovere all'interno della nostra facoltà coinvolgendo appunto studiosi di diverse discipline e appunto diciamo dalla specializzazione magari non sempre univoca su questioni che inevitabilmente esulano dall'ortus conclusus dell'islamologia propriamente detta quindi ben venga diciamo un convegno chiamiamolo così sul velo dove però io ripeto potrò forse soltanto intervenire magari sui significati simbolici spirituali o esoterici del concetto di hijab perché nella metafisica islamica insomma poi il termine hijab assume un significato che va bene al di là dell'accezione che abbiamo oggi affrontato allora rapidissimamente perché poi vorrei lasciare la parola al collega Francesco Leccese che ringrazio anche in questa occasione nuovamente in modo non rituale perché ci coadiua sempre nell'organizzazione di questi incontri e poi magari se c'è un po' di tempo rispettando però un rigido protocollo per cui chiedo ai partecipanti magari di rivolgere qualche domanda alla relatrice ma che siano domande molto brevi precise in qualche modo facili da gestire nei pochi minuti che ci restano e che non si trasformino invece in dei proclami o in delle prese di posizione perché questo è un luogo di ricerca quindi quello che ci interessa è arrivare a una riflessione e soprattutto cercare di evitare i dibattiti il termine dibattito contiene in sé anche etimologicamente una valenza negativa perché è un luogo in cui ci si batte e dove di solito ognuno rimane della sua idea in epoca medievale quando l'accademia si ispirava a ben altri criteri si parla piuttosto di disputazio c'era la disputa la disputa verte sull'argomento quindi ognuno di noi parte dalle sue opinioni è giusto che sia così ovviamente l'opinione su questo tema dipende dall'adesione a questa o quella confessione religiosa dalla propria sensibilità anche dalla conoscenza più o meno precisa di certi aspetti però fermo restando ripeto il diritto poi di nutrire qualsiasi opinione resta il fatto che dobbiamo accertare appunto scientificamente e anche in maniera coerente quelli che sono i termini della questione allora volevo soltanto concludere facendo un paragone con la Russia perché forse sembra un po' peregrino ma che invece secondo me torna cade diciamo come si suol dire a fagiolo perché leggendo di recente un testo appunto del grande teologo Florensky mi sono imbattuto in una pagina in cui appunto egli rievocava la famosa tassa sulla barba imposta dallo zar Pietro il grande allora ho in qualche modo instaurato un piccolo paragone ci sono degli elementi diciamo del costume ma anche in questo rientra anche il velo in tutte le sue varianti anche quelle più diciamo deprecabili come il burka ecco vedo che il professor sbailò ostenta la prima edizione della Rusconi con prefazione di Enemir Zolla me ne compiaccio bene allora perché è interessante questo paragone perché secondo me il velo nella cultura diciamo anche musulmana contemporanea e nella percezione che l'occidente dal colonialismo oggi ne ha ovviamente una percezione dal volto conflittuale ambivale si è caricato poi appunto di un significato simbolico che va bene al di là diciamo degli aspetti appunto legati al costume all'abbigliamento e così via allo stesso modo della barba dei tempi dello zar Pietro il Grande il quale essendo desideroso di modernizzare la Russia di occidentalizzare i costumi e poiché c'era una grande resistenza soprattutto da parte dei monaci ortodossi a disfarsi della barba perché la barba è una tradizione ortodossa bizantina è sempre stata diciamo in qualche modo associata all'iconografia del Cristo quindi rappresenta in qualche modo un'adesione anche esteriore al volto del Cristo vi fu da parte di quegli ambienti una forte contrapposizione tant'è che si racconta che molti non solo molti monaci ma anche molti credenti continuarono in perteri di indossare la barba pagando delle somme abbastanza esose pur di poter ostentare quell'elemento che magari in quel contesto specifico storico culturale religioso poteva avere un significato quindi io credo che questo paragone scusatemi se appunto mi sono spostato ancora a Oriente sia pure in un Oriente cristiano e sono in qualche modo fuoriuscito dal contesto islamico però mi sembra che sia interessante percogliere anche la natura molto complessa di questa tematica che non può essere affrontata diciamo se la si vuole storicizzare va comunque appunto affrontata a seconda dei singoli contesti delle scuole giuridiche e delle diverse sensibilità che si sono dispiegate e vi compresa tutta l'elaborazione del femminismo islamico che è sinceramente molto interessante e stimolante perché ci fa capire come la tematica del velo sia affrontata anche giustamente dalle donne musulmane proprio nella prospettiva di un ripensamento di un'elaborazione più generale e di una lettura se vogliamo anche più moderna del Corano va bene io vi ringrazio e passerei la parola allora al professor Leccese grazie buonasera eccomi grazie anch'io Maria Albano perché in un tempo molto breve è riuscita a condensare in un'ottica islamica questo è interessante quello che è il dibattito intorno al velo mettendo in luce come in quest'ottica islamica naturalmente hanno influito anche i rapporti con la cultura occidentale i rapporti di sottomissione indubbiamente del colonialismo dell'imperialismo di una rinascita del mondo islamico che tra l'ottocento inizio novecento è stata fortemente influenzata anche dal dal positivismo europeo non a caso Nahda lo possiamo tradurre anche come risorgimento è interessante questo riferimento anche a Nasser Hamid Abu Zaid perché Nasser Hamid Abu Zaid non è un innovatore fa riferimento a una categoria ermeneutica tipica dell'islam classico che è quella della Asbab al-Nusul arriva alle sue conclusioni partendo da un tafsir tradizionale un tafsir più tradizionale di quelli di Muhammad Abdu o Sayyed Qutb paradossalmente quindi è interessante questo questo tipo di di analisi che ha proposto Maria perché è un'analisi che tiene conto di come cambia la prospettiva islamica riguardo all'approccio con il testo e come negli ultimi anni una utilizziamo femminista potremmo dire semplicemente femminile come una visione femminile sul testo sacro e sullo studio degli hadith sia qualcosa che provenga non da mondi accademici che ancora oggi vengono visti come un come di retaggio dell'orientalismo anti-islamico e così via ma sia qualcosa che provenga dall'interno dal mondo musulmano stesso quindi è interessante tener conto di questa vivacità culturale di una vivacità culturale che ovviamente tiene conto delle differenze storiche e culturali dei diversi paesi musulmani dei vari contesti anche di una cultura islamica che si è formata in contrapposizione o spesso anche in accordo con un certo tipo di educazione di stampo europeo occidentale quindi il colonialismo britannico francese hanno influito in modo diverso o le forme di autocensura del retaggio culturale penso alla Turchia hanno influito in un altro senso è una tematica come dire vastissima diceva Angelo che fa tremare i polsi si fa tremare i polsi più che altro perché è una tematica su cui spesso il dibattito potrebbe può durare per ore ma come dire la propria opinione di partenza non cambia molto perché spesso l'approccio è un approccio ideologico o confessionale e quindi come dire poco apporta poi il vedere il testo sacro è come un essere preposti possa essere inteso come essere superiori o come fanno molte studiose contemporanee musulmane non essere superiori o essere preposte alle donne ma piuttosto prendersi cura prendersi cura delle donne versetto sempre il versetto che già è citato 34 della sura 4 quindi è interessantissimo questo tipo di dibattito ci sarebbe di aprire tutta una questione su come come dire siamo figli ancora di una forma di orientalismo culturale perché il un libro con una donna con un velo o una locandina con la donna con il velo permette di far arrivare a una conferenza 80 persone una calligrafia in arabo no piuttosto e così via perché siamo ancora così come dire legati a questo tipo di immaginario alcuni immaginari penso quello del hammam sono ormai superati fanno parte di un orientalismo passato l'orientalismo pittorico è come di appannaggio di pochi ma l'orientalismo del velo si vede anche nelle copertine sul mondo islamico quanti testi ci sono sulle donne nel mondo musulmano tantissimi nulla queste sono le mie osservazioni permetto di dire agli studenti colleghi ospiti che sono presenti che siano osservazioni da fare di alzare la mano e prendere la parola perché anche per la per noi che stiamo come dire in questo momento parlando è molto faticoso cercare di stare dietro alla chat non è come dire una chat di richieste quindi una questione di adab di adab di buon comportamento e su questa questione di buon comportamento vorrei dire un'altra cosa recentemente è stato pubblicato da Enaudi un libro molto bello curata da Ida Zilograndi che è una islamologa già docente di arabo alla cafosca di Venezia e attualmente responsabile del studio italiano di cultura da Abu Dhabi che si intitola Le virtù del buon musulmano in questo testo viene messo in mostra come la pudicizia e il pudore siano degli elementi che indubbiamente sono legati alla figura femminile a partire dalla sura della luce ma che sono degli elementi che fanno parte dell'etica islamica non soltanto per quel che riguarda le donne ma anche per quello che riguarda gli uomini indossare un copricapo durante la preghiera rituale per gli uomini indossare un certo tipo di abbigliamento anche se non è così come dire diffuso oggi nel mondo contemporaneo fanno parte di un certo tipo di etica islamica quindi la pudicizia un certo tipo di rispetto un certo tipo di buon comportamento per appunto adab non è qualcosa che riguarda come dire semplicemente il relegare la donna in uno spazio privato ma riguarda più in generale quella che è l'etica islamica tukur che quindi riguarda ovviamente entrambi i sessi io su questa mia diciamo ultima osservazione sull'importanza dell'etica islamica e della pudicizia come un tema come dire che travalica la strettissima questione generale femminile ma che nell'islam riguarda entrambi i sessi lascio la parola a Maria Albano e al preside grazie vediamo grazie Francesco grazie Angelo vediamo se ci sono delle domande delle osservazioni naturalmente concise e mirate il tempo non è moltissimo io vorrei poi lasciare alla professoressa Albano la possibilità di eventualmente concludere il quindi alzate la manina allora io intanto dico qualcosa cioè mi fa piacere Francesco che io come sai non è che sia un ovviamente un arabista ma però ecco io intuitivamente avevo insomma capito che Abu Zaid non era diciamo interpretabile in chiave di neo ishtiyad ma che si andava ad inserire un filone diverso che tu hai ben definito ma insomma che non è un conto è l'ermeneutico l'altro è la libera interpretazione quindi forse questo è un punto l'altra cosa volevo dire quando con riferimento ad Angelo sulla parte diciamo giuridica effettivamente c'è un problema in Europa noi abbiamo in Europa due filoni giurisprudenziali un filone giurisprudenziale che fa riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo che è il filone diciamo che la Corte europea dei diritti dell'uomo applica la Carta europea dei diritti dell'uomo cioè del Consiglio d'Europa che non è l'Unione europea è una cosa un po' diversa ma non entriamo nei tecnicismi giuridici ecco secondo la Corte Edu il divieto assoluto del velo islamico integrale in Francia non viola i diritti umani quindi in questo senso viene giustificato l'atteggiamento secolarista richiamato da Maria prima della Francia un atteggiamento che sappiamo ha provocato delle rivolte in Francia da parte delle giovani musulmani l'altro filone che invece è quello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è una Corte che non si occupa dei diritti umani se non in maniera diretta è la Corte che applica il diritto dell'Unione Europea per far sì che venga interpretato e applicato in un modo uniforme in tutti i paesi europei è composta da giudici ciascuno per ogni paese a sede a Lussemburgo non va confusa con l'altra che invece la Corte dei diritti dell'uomo bene questa Corte che si occupa più di questioni tecniche come dire di diritto dell'Unione spesso questioni industriali commerciali ha detto in merito al velo che il divieto del velo islamico sul posto di lavoro non costituisce discriminazione diretta quindi diciamo che c'è una giurisprudenza come dire di segno contrario alla questione del velo questo andrebbe studiato perché poi nello stesso tempo la giurisprudenza non della Corte di Giustizia cioè questa ma dell'altra Corte quella che si occupa dei diritti umani è una giurisprudenza che al tempo stesso si cerca poi di assecondare il relativismo giuridico dicendo per esempio che può essere lecito offendere come dire i simboli del cristianesimo e così via quindi andrebbe forse fatta una riflessione su come la cultura giuridica europea sta affrontando il tema diciamo della riespansione dell'elemento religioso nello spazio pubblico è il contributo che può venire dai islamologi come Maria Albano Francesco Leccese e Angelo Jacovella per noi che studiamo questa cosa per il giurisimo è enorme volevo soltanto fare questa piccola parentesi aspettando che si alzasse qualche manina ma manine non ne vedo manine non ne vedo e allora vuol dire che va tutto bene comunque io a questo punto faccio io eventualmente a questo punto una domanda a Maria a Albano con la quale chiudiamo il nostro incontro e cioè Maria noi uno dei temi sui quali stiamo lavorando come UNINT anche diciamo in connessione con la Commissione Europea e con altre istituzioni e fondazioni pubbliche e private è un tema che insomma quello della radicalizzazione e io vorrei che insomma tu come dire interagissi molto con la comunità UNIT che ne facessi parte in qualche modo su questo fronte perché il tema della radicalizzazione è un tema molto scottante io ne sono occupato a suo tempo ho partecipato anche a un convegno tuo su questo eboli cioè si serve molto le strategie di radicalizzazione si servono proprio della cattiva interpretazione del testo islamico soprattutto tra i giovani i quali peraltro hanno un approccio estremamente piatto alle fonti e addirittura i giovani di famiglie musulmani presenti in occidente e in Italia si rapportano con la loro cultura in maniera schematica senza tener conto della complessità mi ricordo che una volta c'era il tuo progetto che poi quello di far conoscere i testi degli autori arabi contemporanei ai giovani arabi italiani magari loro sanno qualche versetto del Corano e non sanno chi è come si chiama il dentista scusa lo nomino ma me lo scordo sempre anche perché mi stai simpatico Alaswani Alaswani no mi è simpatico perché il personaggio è diciamo è Gaio insomma è un uomo di mondo ma penso Nagib Mahfuz che tu conosci molto bene Al Sharuni che tu conosci benissimo cioè loro non conoscono la complessità della cultura di riferimento allora io mi chiedo quanto potrebbe contribuire secondo te anche questo un'opera anche di traduzione e di di diffusione di questi testi a far avvicinare questi giovani che vengono dalla cultura arabe alla loro cultura considerata nella loro dinamicità che è qualcosa di dinamico non è che sta scritta la una volta per tutto ecco c'è anche una allora rispondo al preside poi vedo che c'è una manina alzata forse di una studentessa e comunque per quanto riguarda questo in assoluto vi ringrazio per l'apprezzamento che avete fatto alla mia relazione detto da voi per me motivo di grandissima gratificazione per quanto riguarda la domanda sulla radicalizzazione beh qui c'è questo concetto che voi conoscete molto meglio di me tu Ciro sicuramente molto meglio di me dello spazio pubblico se può essere definito cioè è uno spazio laico è uno spazio neutrale su questo poi chiaramente c'è tutta una discussione da cui partono i fermenti rivoluzionari no della radicalizzazione la letteratura è un ottimo strumento per far capire noi cerchiamo dei punti di convergenza partiamo dal fatto che sono più le cose che ci accomunano che le cose che ci dividono partiamo dal fatto che le nuove generazioni devono conoscersi devono sapere che l'islam non è misogeno noi lo facciamo adesso un discorso legato al velo al corano eccetera ma io lavoro tanto sulla adab adab l'ha detto prima Francesco è il termine che significa buon comportamento buona prassi ma è anche il termine che traduce letteratura in arabo quindi è un ortoprassi un ortoprassi che viene proprio dalla letteratura la letteratura per bambini per ragazzi di cui io mi occupo tanto è sicuramente un modo per far conoscere la vera natura dell'islam l'islam parte da ovviamente categorie concettuali molto diverse dal mondo occidentale nell'islam c'è il taokhit c'è l'unitarietà e l'unità di dio che non può essere assolutamente cioè dio permea tutto quindi non c'è differenza fra spazio pubblico spazio privato sacro profano il famoso esempio di due poli di una calamita che si attraggono quindi non c'è teocrazia non c'è laicismo ma c'è una dimensione unitaria tutto questo nella cultura occidentale è assolutamente impossibile da comprendere perché noi invece siamo appunto figli di una filosofia diversa di quella che nasce con Hobbes che per primo nega il concetto di comunità e quindi il comunitarismo tipo islamico ha fatto nascere in occidente questo paradigma individualistico che ci porta su categorie concettuali molto diverse io ho imparato tanto ripeto da professor su questo nella mia formazione al dottorato quindi la divisione tra pubblico e privato ecco questo hijab che delimita dei confini nel mondo occidentale è molto più forte la letteratura per bambini e per ragazzi ci dà un'idea molto bella di quello e anche il discorso interculturale faccio due esempi al volo noi lavoriamo moltissimo in un contesto come il mio dove la presenza araba multietnica è molto forte il 12% della popolazione della mia zona appartiene a temie diverse quindi è chiaro che non è più siamo una periferia siamo una periferia sud non siamo una periferia di città e quindi abbiamo delle prerogative interessanti proprio per sfidare quelli che sono i fenomeni i pericoli della radicalizzazione mi riferisco sempre al professor Svelò che è stato membro della commissione Migniti e che più di me sicuramente ha potuto indagare e ha potuto dire perché ce l'ha detto in un convegno di cui è stato nostro ospite che la scuola oltre le carceri sono definiti terminali intelligenti quindi se la scuola è un terminale intelligente è perché nella scuola le tensioni possono essere smussate quindi due cose noi abbiamo parlato dell'Ijab ed è stato molto bello ne abbiamo parlato in chiave interculturale i ragazzi di un liceo hanno parlato del maccaturo perché l'Ijab non è altro che il nostro maccaturo il velo ispino che viene dal latino mucus quindi veniva usato per detergere il naso e i ragazzi hanno capito che l'Ijab come il maccaturo ha delle polisemie e hanno scoperto le polisemie dei loro maccaturi quindi non si può parlare dell'asterità senza passare attraverso la propria identità e hanno fatto un lavoro molto bello che noi poi abbiamo pubblicato che si chiama Ijab e maccaturi quindi la conoscenza della diversità islamica attraverso la propria identità di radici porta appunto a una comprensione che sfata molto i pericoli della radicalizzazione perché si usa un linguaggio universale che è quello della letteratura della Dab che è la buona prassi e l'ottoprassi proprio nel significato islamico e un altro esempio velocissimo proprio per sfatare la misoginia anche attuale del mondo islamico dove si svelo citava Sharuni decano della letteratura araba per bambini e per ragazzi grande scrittore copto egiziano che ha un altro grande omologo che è Abd al-Tawaf scrittore musulmano badate bene che scrive una bellissima biografia del profeta narrata ad un elefante per i bambini che riscrive Cappuccetto Rosso ispirandosi a Rodari e Cappuccetto Rosso come Cenerentola fanno una rivoluzione sulla loro fiabba Cappuccetto Rosso si rifiuta di indossare il Cappuccio Rosso e indossa un paio di jeans e Cenerentola si rifiuta di sposare il principe quindi parliamo di autori arabi per ragazzi contemporanei uno di fede copta l'altro di fede islamica che ci insegnano appunto quello che il professor Sbano diceva i pericoli della radicalizzazione si vincono così con questo tipo di discorsi secondo me grazie c'era una domanda mi pare c'era una domanda da parte di Sonia graia se vuole intervenire però Ciro non ti sentiamo più forse hai il microfono disattivato sì ecco mi senti stavo cercando anche io la studentessa che voleva intervenire ma non la vedo no non c'è il mio invito a essere concisi non deve essere interpretato nel senso di una censura quindi i studenti si sentano liberi di fare domande che credono abbiamo ancora qualche appunto però ecco era soltanto un invito alla concisione perché i tempi sono un po' stretti l'argomento è appassionante avremo sicuramente altri luoghi e altre possibilità di discuterne forse qui oggi soltanto un piccolo seme abbiamo piantato sì diciamo che questo workshop nasce nel contesto di un corso della mia della lezione però secondo me dobbiamo fare una cosa come centro studi più in là anche con lanciamo una call magari per il dottorato qualcosa del genere e la inseriamo nel nostro dottorato insieme al centro studi perché credo che l'argomento vada vada ulteriormente ulteriormente sviluppato credo che la studentessa abbia una difficoltà tecnica quindi perché ci scrive che se la sentiamo o meno ma non riusciamo a sentire io non riesco a sentire niente forse può scrivere la domanda ma no le domande si fanno a voce scrivere poi uno deve scrivere la risposta di connessione non saprei come fare si parla anzi in video magari può attivare la webcam così intanto la vediamo se non la sentiamo esatto nel frattempo volevo aggiungere rapidissimamente che la facoltà di scienza e la politica si è data come linea di ricerca questa riflessione appunto sugli aspetti collegati ai fenomeni religiosi nel valore e nel loro rigadute sia sociologici sia sociologiche sia appunto geopolitiche che geoculturali quindi insomma siamo a proposito di questo tema siamo proprio nel cuore stesso di quelli che sono i nostri percorsi che poi si incrociano ripeto pur nella consapevolezza che ognuno di noi muove appunto da storie diverse però il valore anche di questo forum è quello di mettere in vete un po' persone che magari si perdono di vista per le circostanze della vita e poi si ritrovano forum islam forum islam si chiama e noi lo facciamo abbiamo colto l'occasione della lezione forum islam appunto è la serie diciamo di incontri organizzati da Angeli il prossimo a questo punto lo faremo nell'ambito di questo forum islam noi abbiamo forum islam forum ebreismo e forum chiesa e quindi forum islam è quello ovviamente più 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 denso più ricco per una serie di ragioni che qui non è il caso di rievocare e quindi direi che ci organizziamo per il prossimo appuntamento e teniamo presente appunto anche la possibilità di interagire nell'ambito del dottorato perché il dottorato è dedicato anche all'intercultura sia io che Angelo siamo membri del collegio e dico anche alle nostre dottorande che sono qui collegate mi riferisco a Ornella Giardini che ci ha anche dato una mano importante sotto il profilo organizzativo e a Giulia Deiana ma anche vabbè insomma adesso non ho tutta la visione globale dei nostri dottorati lavoriamoci ancora prepariamo magari un appuntamento di natura scientifica vediamo o per la fine di quest'anno accademico o magari forse per l'inizio dell'anno prossimo accademico bene va bene allora ci possiamo salutare vedo che la nostra studentessa poi nell'impossibilità forse di comunicare ha scritto nella chat non so se no 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 Angelo le domande si fanno a voce vabbè comunque insomma in maniera interattiva no 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 la chat cioè io io dialogo con gli studenti a lezione anche tramite chat però è un'altra cosa cioè altrimenti diventa un rimparo infatti questo anche a lezione io invito sempre gli studenti naturalmente ci sono problemi in connessione infatti cerco di limitare sto cercando di evitare questa cosa va bene comunque grazie a tutti anche agli studenti soprattutto ai partecipanti alla nostra relatrice grazie a voi come si dice in arabo alla prossima occasione grazie a voi grazie buonasera ciao grazie 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 a tutti grazie a tutti